buongiorno a tutti a chi ci segue questa domenica mattina abbiamo l'ultima lezione del delle lezioni di architettura e abbiamo qui con noi il professor Francesco Moschini che chiedo alla regia di buongiorno buongiorno allora giusto un breve delle breve note biografiche critico d'arte di architettura è stato coordinario al Politecnico di Bari è stato direttore scientifico e culturale della galleria arte architettura moderna fondata nel 79 per noi diciamo di questa generazione è sicuramente una pietra miliare no del per quello che si racconta si parla di quando si parla di architettura è stato per dieci anni direttore dell'OIED e del segretario generale dell'Accademia di Salute ti ringrazio Francesco per essere qui con noi e vorrei appunto prima di vorrei lasciarti la parola ma prima di lasciarti la parola eh vorrei dirti che appunto eh ho seguito delle tue indicazioni di leggere questi due saggi su Eupolis eh in cui trovo interessante eh prima di tutto eh sono dei saggi scritti nel 1990 per cui diciamo hanno eh sono passati degli anni però all'interno di questi saggi eh diciamo ci sono anche delle delle visioni o previsioni come possiamo chiamarle cioè tu riesci quanto parli di città telematica quando eh riesci a dare delle come dire sia del anche delle delle proiezioni in qualche modo eh trovo anche interessante eh questo lo trovo interessante perché non è stato molto trattato da da in queste elezioni il rapporto tra tra città che è regolata dal rapporto tra architettura urbanistica e città eh lo trovo molto interessante perché ultimamente eh diciamo eh e l'ho notato anche nelle nostre elezioni non è stato non è un argomento trattato cioè diciamo l'urbanistica è stata proprio completamente messa messa da parte invece tu parli appunto di città regolata e città appunto eh non regolata ecco eh ti lancio ti ho lanciato questi due temi non lo so come definirmi per eh siamo qui tutti per per ascoltarlo sì eh innanzitutto due piccole postille a quello che hai detto eh prima il riconoscimento nei miei confronti di aver fatto una cosa che sia stata per qualcuno una pietra miliare cioè questo puoi immaginare come per tutti quanti la cosa mi gratifica perché mi sembra sempre che il mondo non voglia ricordare nulla anzi soprattutto rimuova tutto soprattutto le vostre generazioni quelle che ritengo eh diciamo immediatamente dopo la mia eh e ti spiego perché faccio questo distingo eh c'è stato nel 75 nel 1975 un numero speciale della Cittature do Giordui forse il primo numero monografico dedicato all'Italia e si chiamava Italie su San Cens eh curato diciamo dai giovani che Manfredo Tafuri aveva chiamato a raccolta attorno a sé a Venezia che faceva il punto un po' sulla situazione della cultura architettonica in Italia e distingueva tra le generazioni dei cavalieri rampanti eh secondo diciamo la dicitura eh calviniana ecco eh finché eh arrivava la generazione dell'incertezza la generazione dell'incertitude ecco dopodiché eh sembra che tutto sia scomparso queste generazioni straordinarie di cui non facevo parte ma che avevo vissuto e con cui avevo condiviso eh occasioni didattiche occasioni di conferenze di mostre eccetera vale a dire da Ridolfi a Carlo Scarpa a Quaroni a Samonà fino ai giovani eh del Grau allora erano i giovani ecco eh dopodiché la generazione successiva a quella dell'incertezza era la mia una generazione cresciuta diciamo nel vuoto totale e dal punto di vista eh della possibilità didattica tieni presente che eh nel settantacinque che l'anno in cui io mi sono laureato per dieci anni non ci sono stati più concorsi universitari cioè siamo stati tutti come desaparecidos non potevamo più nemmeno avvicinarci alla facoltà di architettura finché negli anni ottanta Purini e Dardi mi hanno eh dato un posto a contratto eh alla sapienza della facoltà di architettura di Roma ti dico questo per farti capire che sono stati dieci anni in cui tutti siamo stati tenuti in una sorta di limbo eh accademico e che sono stati molto difficile da diciamo da riempire e che io ho cercato di riempire autonomamente e inventandomi questa struttura appunto AM architettura arte moderna con cui poter fare le mie iniziative le mie prime attività editoriali allora ti dicevo due cose sorprendenti una appunto questo riconoscimento di questo ruolo la seconda quando tu hai detto che io ti ho segnalato giustamente qualche mese fa questo questi due miei eh saggi eh su eh eh due libri pubblicati dalla terza e curati da dallo scomparso dal compianto Francesco Perego ehm che si chiamava appunto Eupolis allora mi fa impressione che tu abbia segnalato che sono di trent'anni fa perché tendo anch'io come fanno le vostre generazioni a rimuovere e mi sembra impensabile e quasi impossibile che queste cose abbiano una tempistica così lontana nel tempo tant'è che eh come si dice eh mento anche a me stesso di quando io sia arrivato a Roma nei primi anni settanta da Brescia anzi dal lago di Garda per essere più preciso dove sono nato e e mi sembra tutto così impossibile che siano cose di quasi cinquant'anni fa eh per cui constatare che questi saggi sono stati fatti in maniera aurorale eh trent'anni fa comunque mi sorprende sempre e ti ripeto questo è un problema tutto mio personale tendo sempre a rendere impensabile che le cose le abbia iniziate quarantacinque anni fa ecco le mie prime attività editoriali penso ai libri dedicati a Purini a Dardi a De Feo sono del settantacinque non era ancora nemmeno laureato ecco per cui diciamo cerca di capirmi anche perché ho voluto segnalare questi due aspetti diciamo prima di iniziare il discorso sul centro e le periferie bene dopo questa mia introduzione eh Carmelo se vuoi intervenire se intervengo sulla tua postilla e soprattutto diciamo al di fuori del c'è l'AM era vista per noi come la produzione teorica la trovava l'abbiamo trovata nei tuoi scritti nei tuoi libri insomma una una produzione teorica prima di tutto eh molto ricca ma nello stesso tempo anche le molto legata alla progettazione cioè quello che quello che hai fatto tu rivedendole anche oggi quando rilego i libri su Dardi su Purini eccetera è una teoria che va che si abbraccia alla progettazione non è eh come dire non una teoria speculativa chiamiamola così no e sono libri fondamentali anche adesso per questo io l'ho sempre l'ho sempre apprezzato questi tuoi libri li vado sempre a cercare perché non ce li ho tutti per cui eh no no mi piace che tu abbia segnalato questo aspetto perché io quando mi sono presentato in moto sotto lo studio di Franco Purini che ancora me lo rimprovera vestito in maniera tragicomica con una salopette eccetera eh lui aveva qualche eh perplessità su lui e soprattutto la Termes a dare ascolto a me che mi presentavo in maniera quasi impresentabile chiedendo eh poi per altro che il libro che dovevamo costruire fosse il rovesciamento del rapporto tra teoria e prassi nel senso che questi libri volevo che fossero addirittura disegnati eh prima eh di qualsiasi altra eh diciamo presa di posizione su come avrebbe dovuto essere il libro ogni pagina io volevo che Franco Purini che Dardi che De Feo cioè disegnassero e discutessero con me ogni pagina del loro volume ecco per cui c'era questo eh continua oscillazione tra dimensione teorica e dimensione pratica e eh la riflessione doveva essere ricollocata all'interno di un eh disegno preciso a cui veniva restituita diciamo la la dimensione come avrebbe detto come avrei imparato poi successivamente a capire eh il portato teorico di Federico Zuccari quando diceva e distingueva tra il disegno interno e il disegno esterno diciamo la capacità di eh farsi momento di concentrazione teorica nel disegno rispetto alla promessa immediata di architettura successiva o in un secondo momento e questo rovesciamento sono riuscito a ottenerlo costringendo un punto eh vessando questi autori perché disegnassero con me pagina per pagina di questo eh di questi loro eh volumi dedicati ai progetti di architettura ecco anche perché ho sempre privilegiato la dimensione puramente teorica eh del progetto eh quasi ricordandomi eh come Pierpaolo Pozzolini eh in uno dei film della trilogia della vita vi ricordate il De Camerone, i racconti di Carterburi, le mille e una notte, un certo momento in una scena in cui si auto rappresenta eh credo nella Abbazia o di Fossanovo o di Casamari eh come eh diciamo eh pittore medievale eh forse eh alludendo alla dimensione eh pittorica giottesca e riprende eh la Silvana Mangano l'idea della comparsa della Madonna dicendo la Madonna è meglio immaginarla che vederla per non per evitare tutte le compromissioni eh con la eh conflitto con la realtà con l'oggettività e eccetera quindi eh mantenere questa dimensione eh puramente speculativa e teorica. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che mi è sempre interessato molto eh coniugare il livello alto e il livello basso. Vale a dire io non ho fatto solo le mostre di Aldorossi, di Giorgio Grassi o di Alberto Burri eh o di Alighiero Boetti. Ho cercato di dissodare il terreno eh mettendo a confronto i diversi livelli e soprattutto eh risollevando l'humus, il terreno da cui fa scaturire il senso e la portanza di qualsiasi contributo anche il più minimale, anche il più apparentemente trascurabile. Per cui voglio dire eh c'è stata sempre la possibilità di confrontare il disegno alto con il disegno non così alto e di con la dimensione prosaica con la dimensione poetica. Ho cercato eh di appunto di mettere a valore quello che veniva in qualche modo rimosso o tenuto comunque fuori eh dalla dimensione della pura del puro interesse per le figure di sangue blu. Ecco questo è un aspetto e non è un caso e qui veniamo al tema di oggi che eh tra le mostre eh che eh ho messo in piedi con AM Architettura Arte Moderna ci sono mostre dedicate a in tempi non sospetti a Innocenzo Sabatini l'autore no eh della Garbatella a Giovannoni eh a Costanzo Costantini a Giulio Magni a Quadrio Pirani che sono nomi che probabilmente diranno poco ai giovani di oggi ma che sono stati i veri costruttori della città a partire dalla legge Luzzati eh negli anni venti cioè c'è un problema di costruire una città quello che si sarebbe detto molto più tardi negli anni sessanta con Rossi e con Neimonino una città per pezzi e per parti e che in qualche modo era stata prefigurata in tre parti autonome e molto compatte come la città universitaria di Piacentini attorno alla fine degli anni trenta l'Euro del quarantadue realizzata poi successivamente nel dopoguerra eh piuttosto che il foro italico con del debio e dove sono state comunque coinvolte le forze sia quelle progressiste che quelle più reazionarie ecco negli anni venti alla fine degli anni venti eh un personaggio come Innocenzo Costantini realizza una delle prime eh come dice dei primi tributi all'idea di Beneser Awar sulle Garden City sulla città giardino con il famoso progetto della Garbatella e siamo nel ventisette siamo nella verifica eh progettuale attraverso la costruzione e il progetto di questi grandi alberghi suburbani di questa città compatta unitaria che fa pensare alla compattezza delle mit casermen berlinesi che fa pensare alla Grossstadt di Hans Meyer eh no eh Franco di Francoforte quindi eh c'è c'era una volontà in quegli anni di dare corpo e sostanza a una città regolata e immaginata per funzionare pur nella sua dimensione periferica come città unitaria per pezzi e per parti compiute formalmente ma anche altamente autonome e funzionali ecco l'esperienza appunto della Garbatella così come l'esperienza più tardi eh no eh Giovannoniana eh della città giardino eh di Montesacro eh contribuiscono in qualche modo a dare corpo e sostanza all'idea successiva al secondo dopo guerra di queste ulteriori parti di città periferiche ma formalmente belle compiute unitarie con questa sorta di proclamata e voluta autosufficienza e autonomia penso alle eh ai quartieri popolari quelli diciamo che abbiamo imparato ad amare e a conoscere come il tuscolano come il tiburtino a maestri eh come Quaroni come Ridolfi ecco che hanno voluto e disegnato e saputo disegnare queste parti di città in maniera formalmente compiuta e soprattutto in maniera straordinaria che ancora reggono ricordiamoci che questo aspetto delle eh parti di città formalmente compiute eh sono debitrice in qualche modo eh di quello che è stata un'esperienza molto importante come quella eh della sesta triennale di Milano eh la cui regia era stata affidata siamo nel trentasei vi ricordo lo ricordo per i più giovani soprattutto che le triennali le triennali di Milano quelle tuttora in corso eh derivano da quattro eh rassegne che erano chiamate biennali di arte decorativa che si tenevano negli anni venti nel parco della villa reale di Monza e che col trentatré cambiano aspetto e diventano triennale non più delle arti decorativi ma delle arti e dell'architettura e eh si spostano da Monza a Milano nel parco Sempione con la costruzione con il progetto e la realizzazione del palazzo dell'arte da parte di di Muzio e con la quinta triennale di Milano si mette a regime questo lavoro interdisciplinare tra eh sentimento artistico non a caso sono coinvolti nella quinta triennale anche artisti come Campigli come Sironi come Carrà eccetera e eh progetto architettonico e non è un caso che la sesta triennale quella del trentasei che cambia anche la cadenza da biennale in triennale appunto eh sia come regia nelle mani di Persico e pagano bene eh tra le cose notevoli di questa sesta triennale del trentasei eh eh c'è una mostra significativa e molto importante affidata allo stesso pagano eh sull'abitare senza architetti. Ecco il pagano riprendendo un po' i temi di quella che era stata l'esperienza eh con Walker Evans e Dorotea Langeo ma con molti artisti eh diciamo americani del periodo della depressione successiva alla crisi del ventinove eh l'operazione della Farm Security Administration in cui tutti questi autori fotografi vengono dislocati a rappresentare a riprendere eh lo stile di vita eh delle classi più emarginate delle classi meno abbienti delle classi sociali disagiate appunto dai tra i contadini eccetera eh e restituiscono un'immagine della eh cultura americana eh veramente incredibile sorprendente e assolutamente di assoluto di grande novità portando il senso dell'esistenza nella vita eh quotidiana. Quello che vedremo poi fare eh eh con Cesare Zavattini riprendere ma anche Berengo Gardin lo faranno poi eh nei confronti di una città dell'Emilia come Susara cioè eh insomma ci sono esperienze molto molto importanti che in qualche modo condizionano anche la nascita di questi quartieri neorealisti degli anni cinquanta all'interno dei due settennati del piano in a casa e ricordiamoci che Tafuri rimpovererà molto spesso la cultura architettonica italiana di essere frutto di quella dimensione popolareggiante se non populista eh nata appunto dalle esperienze mostre del trentasei della triennale di Milano in particolare di questa legata all'abitare senza architetti all'abitare nelle eh situazioni rurali dei contadini eh ripresa appunto da Pagano eh ecco io ritengo che invece nell'immediato dopo guerra si sia guardato alle novità rispetto alle manchevolezze di quella che era stata la politica sotto il fascismo degli eh della dell'abitare fuori dalle grandi città la creazione di questi borghetti ricordiamo le esperienze nella Daunia oppure in Puglia eh di eh Segezia incoronata Dauniglia anche nomi mitici che fanno pensare a città fantastiche in realtà erano eh città quasi metafisiche quasi dechirichiane che nel loro pauperismo restituivano una integrità una bellezza ma una bellezza di assoluta eh lontananza di assoluta mancanza di possibilità di vita ecco eh riprendendo i temi dei borghetti realizzati sotto il fascismo eh eh gli architetti cosiddetti del neorealismo ho citato prima Quaroni e eh Ridolfi ma potrei citarne moltissimi pensate solo come è stata ramificata in tutto il territorio nazionale questa esperienza pensare all'esperienza neorealista dei del quartiere Falchera eh a Torino piuttosto che di spine bianche eh a Matera eh con coinvolti una ventina di giovani architetti tra cui Carlo Aimonino eh Giancarlo De Carlo eh ma tutti gli architetti eh dei la generazione dei giovani del secondo l'immediato secondo dopoguerra si sono formati in questi due settennati dei piani in una casa penso al tratturo del prete di Brindisi eh penso a Foggio ai quartieri popolari di Foggia sempre visto che si sta celebrando proprio in questi giorni una mostra che riconosce la grandezza di Carlo Aimonino eh alla triennale di Milano a dieci anni dalla sua scomparsa ecco quindi eh è importante è capire come questi quartieri siano nati sul senso di un progetto che manteneva all'interno una dimensione di richiesta teorica non solo di promesse d'architettura immediata dal punto di vista formale ma di dimensione teorica quanto a complicità esistente esistenziale vale a dire questi progetti al di là della eh di quello che è scaturito poi con il famoso articolo sul paese dei dei barocchi ecco ma si capiva che in questa idea dell'unità di vicinato quel bisogno di condivisione di una unitarietà e di una di uno spirito di eh fratellanza e di comunità fosse anche alla base del disegno e del progetto di quella parte autonoma di città ecco eh spero che questo eh non sia andato del tutto perduto anche se se ne ha poca memoria ed è lo stesso scusate il grande salto che in fondo sottende anche i grandi intensivi della fine degli anni sessanta vi ricordate la famosa legge la centosessantasette ecco vediamo come hanno risposto anche qui alcuni grandi maestri penso all'esperienza sia pure diciamo con le cadute corrosive poi eh per il eh il fatto che eh sopra vi si sia stratificata tanta cattiva letteratura tanta cattiva filmografia come l'esperienza di Gregotti con il gruppo di giovani architetti per il quartiere Zen di Palermo e pensiamo pensiamo all'esperienza di Mario Fiorentino con il eh l'elemento chilometrico del Corviale di Roma ma anche Cegli e Tognon di Rozzol Melara eh ma anche il quartiere Galaratese del già citato Carlo Emonino con Aldorossi tutte esperienze nate a cavallo tra la fine degli anni sessanta e primi anni settanta che sono state importantissime nella prendere nell'assumere su di sé l'esperienza intensa complessiva e complessa di quello che è stato il portato teorico che dalla sesta triennale di Milano ai quartieri neorealisti dei due settenati del piano si sono ritrovati anche in questa diversità di coniugazione dal punto di vista formale strutturale l'acquedotto solitario che fa da barriera come il Corviale di Fiorentino e che in qualche modo mette ordine al disordine dell'espansione a marmellata a macchia d'olio della periferia romana incontrollata eh piuttosto che eh la perentorietà la memoria eh della della domus romana eh delle insule eh del quartiere Zen di Palermo così come eh eh diciamo la eh gestualità espressionista eh del del nodo eh di eh attrazione centrale quasi si trattasse di un polo magnetico eh in cui si attestano tutte le varie eh strutture eh del dell'edificio del Monte miatta al Galaratese con la presenza laconica eh silenziosa con l'afasia della stecca aldorossiana ecco sono tutti elementi di declinazione diversa di una tentativo di unire dimensione teorica per una nuova formulazione dell'esistere e del condividere l'esistenza quotidiana all'interno di una parte di città voluta come formalmente compiuta e mi piace allora ricordare tra queste esperienze che sono diventate così anche clamorose per il successo mediatico che hanno avuto per le pubblicazioni monografiche dal Giappone al Sud America eccetera pensiamo al Gia eh monografico tutto dedicato al quartiere Galaratese di eh Carlo Almonino ma ci sono state esperienze come in anni successivi come quella di Teora eh progettata da un personaggio di cui nessuno più conserva memoria come Agostino Renna eh diciamo erede eh tra i più straordinari della eh dimensione teorica della chiarezza del concetto ribadito di matrice grassiana eh che a Teora appunto nella ricostruzione eh post terremoto eh eh giù eh della campagna ha realizzato una delle più belle esperienze dell'abitare dopo la grande esperienza delle teorie degli anni venti della della miglior tradizione della cultura razionalista tedesca in generale mitte l'europea ecco eh forse bisognerebbe che ci ricordassimo di queste eh cose così importanti anche perché altrimenti eh riteniamo sempre eh di eh eh in qualche modo di essere secondi ad altri. Allora vi ricordo che quando eh con la politica dei gran travò mitterandiani eh Cemetoff, Uidobro e altri vengono incaricati eh della realizzazione eh dei grandi quattro ministeri finanziari eh di cui diciamo una parte è proiettata addirittura sulla Senna a Parigi ecco è chiaro che c'è uno sguardo incrociato una sorta non di dissolvenza ma proprio di scambio, di mutuo scambio con la cultura della grande elemento eh di Fiorentino del Corriale. Ecco eh allora la il trasferimento dei quattro ministeri per l'ampliamento del grande Louvre eh diciamo è stato eh portato a livello mondiale di attenzione perché c'era l'assoluto azzardo della novità di questo edificio che in maniera prorompente eh si eh estendeva addirittura sul fiume ecco ma ricordiamo che eh non c'è nessuna differenza tra l'azzardo progettuale di peraltro grandi maestri maestri eredi dell'esperienza nelle periferie urbane dell'agua no? Che corrispondeva un po' al grandi interventi del nostro gruppo Grau eh per quanto riguarda eh l'edilizia abitativa eh soprattutto nel eh a Roma e nei dintorni di Roma e del gruppo romano architetti urbanisti ecco ma non c'era nessuna differenza tra l'azzardo dicevo eh del dei grandi ministeri finanziari rispetto alla eh dimensione eh di assoluta eh rigore eh di assolutezza e di rigore eh della barriera eh no? Frapposta tra la campagna e il disordine della città di Mario Fiorentino ecco eh io spero di non aver fatto eh troppi e passi eh diciamo smisurati di confronto eh tra diverse esperienze ma che siano eh l'occasione anche per poter eh aprire un po' un dibattito o una discussione. Eh infatti la la quello che 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 mi viene in mente è che poi che cosa è successo? Cioè nel senso tu eh eh ci hai raccontato una linea no? Una linea che è la storia no? Della storia di 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 zone eh di aree di di modelli di città no? Quando tu parli di Garbatelle è un modello no? Cioè tu lo puoi come dire estrapolare e riposizionarlo in quanto in quanto modello. La stessa cosa è il come si chiama? Montesacro no? Eh anche facendo un salto dopo quando c'è Tuscolano, Tiburtino eccetera eccetera. Anche qui diciamo eh comunque il pubblico e questo interventi pubblici ha un'idea di città no? Cioè noi possiamo portarla, possiamo vederla e la riconosciamo no? E viene anche in qualche modo come dire accettata dal dagli architetti che in quell'epoca progettano cioè poi che cosa succede? Cioè perché poi la periferia va alla deriva? Cioè poi a un certo punto questi elementi rimangono degli elementi isolati che non hanno la forza di trenare no? Di non hanno la forza di trenare quello che è il loro contesto, quello che è il territorio circostante. Per cui questi elementi rimangono isolati no? Rimangono isolati e in realtà poi il pubblico diventa sempre più debole e tutta la parte speculativa va in qualche modo a riempire no? A riempire queste aree. Ora la mia domanda è ma noi architetti abbiamo delle colpe per quello che è successo oppure no? Oppure ci siamo rifugiati solamente dove potevamo esprimere qualcosa e diciamo e abbiamo abbandonato il resto, non ce ne siamo interessati? Oppure proprio questa debolezza del pubblico non ci ha dato neanche poi la possibilità di dire qualcosa? Io credo che siano tutti questi elementi hanno contribuito a rendere marginale sia la cultura architettonica che il ruolo propulsivo e propositivo degli architetti e sia come si dice la ricerca spasmodica di immediatezza, di risultati più veloci possibili senza tener conto come diceva Conrad delle orme di chi ci ha preceduto. Ecco forse il mio anche patetico tentativo di ripercorso di momenti che sono stati credo autorevoli, importanti e significativi e rappresentativi non solo per il paese ma sono stati significativi e rappresentativi per l'intera comunità internazionale. Quando prima facevo riferimento al numero monografico DGA in questa rivista giapponese di Futagawa eccetera era solo per segnalare come a dispetto nostro noi siamo stati propulsivi e propositivi. Ricordo che alla metà degli anni 70 ricordo la triennale la sedicesima triennale se non vado o la diciossettesima triennale quella degli anni dei primi anni 70 quella curata da Aldo Rossi dove Aldo Rossi chiama raccolta la migliore intelligenza erede della cultura del razionalismo nazionale e internazionale. Ecco è stata talmente rappresentativa e significativa per la prima volta si vedevano in Italia da i progetti da Alvaro Sisa a Sterling una sorta di radiografia dell'esperienza progettuale teorica universale che confluirà in un anche lì straordinario catalogo con cui si apriva la serie diretta da Massimo Scolari per la Franco Angeli. Ecco adesso ricordo bene la quindicesima triennale mi pare fosse il 71 ecco e davano conto di questa ripartenza di questa necessità di chiamare a raccolta la miglior tradizione la memoria la migliore memoria collettiva di tutti. Ecco noi in questi anni abbiamo fatto soltanto opera di rimozione e di dispersione di questa memoria. Ricordo che allora tutti guardavano alla cultura italiana alla diciamo alla portato teorico della dimensione del rapporto tra teoria e progetto su cui poi si sono fondate le grandi acquisizioni libertarie della cultura portoghese pensate sotto la dittatura salazariana fino a 75 così come la cultura architettonica spagnola sotto la dittatura franchista fino a 75. Ecco come ulteriore precisazione la triennale era di aldorossi era quella del 73 ecco ma già in quegli anni ecco c'era un interesse nei confronti di queste culture ancora sotto il dominio sotto lo stivale della dittatura ho citato salazar e franco per la spagna per il portogallo ma gli architetti erano attentissimi al quello che succedeva in italia ma addirittura avevano una scelta quasi localistica per cui gli architetti di barcellona guardavano a quello che succedeva a milano eh gli architetti baschi eh guardavano a cosa succedeva eh nel fenomeno della tendenza vi ricordate la eh due due c la rivista due c ecco eh dove lavoravano eh garai di nasasoro gli architetti baschi che sono stati tra i migliori architetti poi della ripresa post franchista in in Spagna assieme alla cultura eh diciamo di Boigas eh Martorell Boigas i gruppi eh barcelonesi ma anche la cultura eh sevigliana Iermo Vasquez Consuegra Cruz Ortiz come tutti questi per primi si siano in qualche modo imbevuti della cultura del portato teorico progettuale dei nostri eh architetti architetti pensatori perché a differenza di quanto eh succedeva con international style dove c'era la pura ed esclusiva promessa di architettura dagli anni sessanta in poi i nostri progettisti si sono resi conto che fosse in po' quanto fosse importante unire questa dimensione teorica con quella progettuale in modo che ogni progetto fosse una sorta di concentrato teorico ecco e non solo una promessa immediata di architettura da realizzarsi ecco però di questo ne hanno approfittato tutti gli altri tutta la cultura internazionale pensate al ruolo propulsivo che ha avuto l'instituto nel settantotto di Aisman diretto da Aisman a New York o la cultura della Cooper Union con John Ijac o con Eiduc ecco e come siano stati bravi ad assumere su di sé il miglior portato teorico la tradizione culturale e la capacità di dissodare il terreno portato avanti dalla migliore intelligenza italiana solo noi abbiamo saputo rimuovere questi aspetti e renderli trascurabili in nome di un malinteso globalismo universalismo condivisione non controllata appunto e non suffragata dall'esperienza diciamo della tradizione non eh l'esperienza suffragata dalla tradizione in nome della costruzione di una patetica altra modernità come vorrebbe o avrebbe voluto qualcuno ma in nome di una continuità nella eh come si dice nella possibilità di aprire a nuovi orizzonti grazie ai fondamenti che uno si è costruito e strutturato nel corso degli anni e nel tempo e che non ha buttato via rischiando di buttare come si dice l'acqua con il bambino e le rigiro una di Raffaele domande delle delle considerazioni diciamo una di Raffaele Cutillo che dice l'architettura non ha nessuna colpa restando vittima della politica grande decisore delle cose da cui si è sempre lasciata ingenuamente condizionare eh poi ecco te la te la mandano anche da un'altra un'altra che dice forse la di Maria Luisa Priori forse la perdita di qualità nell'ideazione della città può essere eh eh di pesa anche dall'uscita della figura dell'architetto teorico dall'amministrazione pubblica molti architetti citati li studiamo sui libri di storia li vediamo sulle monografie ma spesso e volentieri erano impiegati comunali oggi invece allora eh devo dire che possono anche essere condivise queste osservazioni però eh io eviterei queste formule così tranciane e mi esprimo eh chiarisco subito quando si dice erano impiegati comunali c'è una sorta mi si passa il termine di rozzezza definitoria nel senso che erano impiegati comunali anche negli anni trenta eh uno come Mazzoni per esempio un architetto come Mazzoni Mazzoni al di là del made in Italy che non sopporto come definizione è uno che ha contribuito a costruire il made in Italy attraverso una immagine condivisa della progettualità per cui le stazioni o eh gli edifici postali dal Brennero a Messina sono state realizzate con questa uniformità di intenti che non voleva dire pedisseguità esecutiva ma voleva dire studiare per ogni eh situazione una soluzione giusta appropriata inerente al luogo alle tematiche alle problematiche per cui eh questo oscuro personaggio eh appunto come Mazzoni ha realizzato delle cose straordinarie come impiegato eh statale quindi eh per questo vuol dire non dobbiamo tacciare subito di arretratezza il fatto che questi che alcuni di questi architetti fossero anche eh come si dice degli stipendiati eh il problema è capire con quale intensità con quale intenzionalità progettuali hanno svolto il proprio lavoro ecco questo eh ho risposto mi accorgo parzialmente alla domanda però ecco questo mi serviva anche per segnalare come sia stato importante il lavoro coscienzioso e il lavoro diciamo più eh se volete anche più eh di più umile eh più eh meno eh no eh roboante meno rutilante eh dell'aver svolto il proprio livello impiegatizio eh con una giusta eh attenzione a quello che si doveva risolvere a quello che si doveva proporre. Eh dunque sì io riportando eh riportando il il tema appunto sulla periferia il nostro discorso della periferia avrei anche diciamo un'altra un'altra domanda da farti cioè quella la domanda di come è stato in questi interventi in alcuni interventi che tu ritieni importanti è stato progettato lo spazio pubblico perché molte volte sembra cioè sia abbiamo casi in cui non è mai stato realizzato quello che viene poi definito lo spazio pubblico altri casi in cui lo spazio pubblico ha assunto un valore anche nel disegno del progetto no? Pensa quando è citato eh l'unità di abitazione di libera oppure anche garbatella tutto il sistema di piazze no? Che 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 adesso è ribaltato no? Cioè prima arrivava da via ostienza adesso arriva dalla circonvalazione per cui diciamo eh oppure tutti i fallimenti appunto di lo spazio pubblico del corviale non è il famoso quarto quarto piano non è riuscito no? Non è riuscito a a essere quello appunto eh il piano commerciale. Allora secondo te eh questo tema dello spazio pubblico eh non siamo mai riusciti a risolverlo oppure abbiamo subito l'abbiamo sempre considerato forse un po' minore cioè nel senso che è sempre forse il corviale ha un disegno di struttura urbana diciamo molto più ampio per proprio per la per la fisicità di questo oggetto architettonico però per esempio parlando dello scusami eh parlando dello spazio pubblico mi viene in mente anche eh un un intervento che non è in periferia che il bellaggio olimpico che però diciamo ha il tema ha un tema dello spazio pubblico eh come dire che che è stato cioè molto interessante almeno penso. Sì eh allora eh è chiaro che ci sono state tutte le carenze eh che hai anche indicato tu la mancanza di collegamenti di servizi pensiamo eh anche al fatto che eh quando Fiorentino aveva eh ipotizzato eh l'utilizzo della ricorridoire come avrebbe detto Le Corbusier di questa strada corridoio non pensava certo che sarebbe stata destinata a essere luogo della disperazione e no eh dello spaccio eh per cui la mancanza di arrivo di servizi di collegamenti con la città ha contribuito molto al degrado oltre che a una sbagliata scelta politica di eh concentrare il disagio eh di certe classi sociali in maniera eh omogenea unitaria mentre se si fosse scelto diciamo eh la lo scalettamento la differenziazione anche delle presenze sociali forse non si sarebbe arrivati a questo tipo di degrado a cui si sta cercando attualmente di mettere riparo eh però già lo stesso Fiorentino prima di morire attraverso il proprio eh le proprie riflessioni sul Corviale rivisitato mi pare pubblicate su un numero di Casabella aveva ipotizzato questa serie di integrazioni perché è chiaro che il problema è la costruzione di degli elementi di condivisione sociale la presenza eh no di strutture pubbliche eccetera che può in qualche modo dare autonomia e autosufficienza a quello che ho detto una parte di città autonoma e altamente specializzata e funzionale se non ci sono le strutture pubbliche eh di condivisione eh gli spazi pubblici a cui hai fatto riferimento ma anche i servizi pubblici eh necessari è chiaro che diventa un luogo dormitorio eh di cui non c'era assolutamente bisogno eh diciamo di appunto di ampliare eh in maniera così paradossale ecco allora eh tu hai citato come esempio positivo per esempio eh il eh il quartiere eh olimpico eh qui per gli anni sessanta di Roma benissimo eh in questo caso è stato il disegno di Moretti con Libra con tutti i giovani architetti coinvolti per quella straordinaria esperienza eh la la straordinarietà di quell'impianto che ha reso possibile la permanenza di questo luogo come luogo eh importante per la città stessa tant'è che anche l'arrivo molto più tardivo del famoso auditorium di Renzo Piano che ricordo a tutti nella sua straordinarietà perché era una struttura eh che serviva per la città di Roma che aspettavamo tutti e su cui si erano già espletati a vuoto numerosi concorsi almeno dalla metà degli anni cinquanta è chiaro eh che eh è riuscito in qualche modo a sopravvivere la straordinarietà di questo progetto di questo disegno urbano nonostante la invasività dell'arrivo del eh dei tre elementi dell'auditorium di Renzo Piano perché ricordiamoci che quando eh gli architetti pensano al quartiere eh olimpico al villaggio olimpico pensano alla struttura lamellare di questa aerea passerella di Pierluigi Nervi alla presenza diciamo quasi duciampiana di questi oggetti spiazzati con pochi punti di contatti tra di loro penso al villaggio al eh al tema dello stadio al tema delle eh isole su pilotì delle isole abitative su pilotì eh alla presenza della chiesa di Berarducci tutti elementi che spiazzati duciampianamente dicevo comunque eh esibiscono la loro bellezza la loro eh diciamo autonomia la la propria autosufficienza in una campeggiare reciproco come disidentità come monadi che non dialogano tra di loro ma che in qualche modo convivono nella dimensione aerea nella leggerezza di quel brano di città ridisegnato ecco i tre elementi i tre auditori di Renzo Piano in qualche modo vanno a sbattere da una parte contro contro eh no eh contro i parioli eh contro le stesse strutture contro la stessa struttura lamellare di Pierluigi Nervi ecco e nonostante questo resiste la bellezza dello spiazzamento delle singole parti del quartiere olimpico vuol dire che il disegno urbano è stato talmente impostato bene che nonostante diciamo la poca attenzione la poca discrezione che c'è stata nell'inserire con una certa violenza con una certa brutalità ripeto una struttura peraltro encomiabile che serve moltissimo di grande attivismo e che funziona perfettamente che per fortuna ha ridato diciamo vita a un'area eh di Roma che rischiava di essere di nuovo un punto di degrado un un momento eh di degrado per la città ecco nonostante questo il disegno urbano permette di sopravvivere a quel quartiere in maniera straordinaria risposta a bruciapelo ma secondo te nei tempi di oggi si si sarebbe potuto costruire quel questo intervento oppure no? Beh politicamente eh allora diciamo eh è stato possibile perché c'è stato un decisionismo eh diciamo dall'alto eh mi pare che il ministro fosse Togni eh che ha potuto assumere su di sé in maniera totale la conduzione la direzione di questa volontà politica e eh renderla attuativa eh abbiamo un problema sulla linea un attimino perché probabilmente è andata via la corrente aspettiamo un attimo abbiate pazienza ancora qualche minuto ciao a tutti Grazie. Grazie a tutti. No, dunque, sì, ti faccio un'altra domanda, è stato un punto importante, una definizione importante per la nostra generazione che a un certo punto aveva deciso, come tutte le generazioni di giovani, di essere contro qualsiasi cosa e soprattutto contro il disegno della città, contro la maniera che secondo noi l'architetto non aveva i mezzi, non aveva le possibilità di poter disegnare parte di città per tutti i motivi che possiamo elencare. E, diciamo, il motto era quello di Colas che nel piano urbanistico di Menunzerante aveva detto che appunto il progettista, un architetto, può disegnare solo i vuoti, no? Per cui lui lavorò su questo piano urbanistico facendo solo il progetto dei vuoti e lasciando al, diciamo, al mercato, chiamiamolo così, i piedi. Per noi era molto interessante perché si invertiva, prima di tutto si invertiva il discorso cosa progettare per prima. Secondo, si manteneva una certa libertà proprio sul tema dell'architettura, per cui non progettando il pieno all'inizio non c'erano delle evidenti, come dire, necessità formali, no? Molte volte erano spazi abbastanza ricavati che spesso invece ci aiutavano in qualche modo a, come dire, a ripensare delle forme. Colas poi dirà fuck the contest, per cui, insomma, sarà sempre più radicale, anche se, diciamo, adesso forse sta avendo dei ripensamenti. Però ecco, per dirti che, appunto, questo, negli anni, i primi anni 90, eravamo, come dire, affascinati, no? Da questa, da queste definizioni colassiane. Tu, cioè, che, che, cosa pensi? Cioè, nel senso, il fatto di avere il progetto, cioè, penso che sia un po' il pericolo di ricadere in una zonizzazione, insomma, che tu hai già scritto nel saggio che abbiamo presentato all'inizio. Però tu, ecco, il fatto che l'approccio sia un approccio, diciamo, verso il vuoto, no? Piuttosto che il pieno. Secondo te è un approccio che può ancora essere valido oppure no? Soprattutto adesso, no? Che ci sono questi ripensamenti sulla città disegnata. Purini fece la Biennale di Venezia, no? Fece Vema, dove, appunto, si marcava questa volontà di disegnare pezzi di città, no? ...denza che c'è già stato e è in corso un ripensamento su queste posizioni più radicali. Io penso che non sia il caso di distinguere in maniera manichea cosa sia meglio di fare. È l'occasione che dovrebbe suggerire, diciamo, il modus operandi del progetto. E, naturalmente, io do sempre la priorità alla dimensione, appunto, di concentrato teorico del progetto. Per cui penso che non ci possa essere nulla che prescinde dalla capacità teorica del progetto di prefigurazione futura. Per cui solo fondandoci su quello che è l'intenzionalità e quello che, in termini artistici, dalla critica, diciamo, regaliana, il Kunstvollen, dalla dimensione del sapere mitteleuropeo, la volontà d'arte, la volontà espressiva, la volontà di intenzionalità progettuale, diciamo, deve essere sempre alla base. Per cui poi può essere anche dirottata sul vuoto. Non necessariamente si deve applicare a, diciamo, a una formalità formalmente compiuta. Io ricordo, ma non per parlare di cose autobiografiche, mi è capitato molto spesso di lavorare su temi progettuali, chiamando raccolta molte forze, diciamo, del progetto. Ricordo, non per vanità, ma i miei laboratori di progettazione, che sono iniziati a suo tempo con Carlo Imonino, quando era assessore al Centro Storico di Roma, ti parlo dell'83, nella stagione felice, tra le più felice di massimo progettualità per quanto riguardava la città di Roma. Ma a partire dall'esperienza dell'83, io ho cominciato a segnare un po' alcuni paesaggi e territori italiani con laboratori di progettazione. Penso a Cerretto Sannita nel 1988, fino al più recente di Gallipoli nel 2014, ma anche a Cassino. Ho fatto tutta una serie di laboratori di progettazione, volta per volta, come si dice, confrontandomi con le diversità del progetto, ma sempre in una dimensione quasi di periferia. Non ho mai cercato i luoghi privilegiati per il progetto, ho sempre cercato i luoghi, in qualche modo, più desertificati, più abbandonati, meno riconoscibili nella loro dimensione autoriale. Pensate a cosa è stata Cassino con le distruzioni del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale, ma anche con le ricostruzioni autorevoli di un personaggio così poco studiato come Nicolosi, ma così importante. Bene, però sono rimasti come frammenti, come lacerti, così come l'esperienza di Cerretto Sannita, una sorta di memoria di città ideale, di frammento di città ideale, dopo le distruzioni del terremoto del 600, di metà 600, dove l'assunzione di una propria idealità come le città post-terremoto ricostruite dal Duca di Camastra, penso a Gran Michele, a Santo Stefano di Camastra, a Gran Michele, a Avola, a Santo Stefano di Camastra, sono state ricostruite con una loro idealità come se si trattasse di Palmanova, di Sforzinda, del Filarete. Ecco, io ho portato in questa città spettrale, larvale di Cerretto Sannita, la progettualità di giovani allora, penso a Mario Seccia, a Gian Giacomo Dardia, a Franz Prati, che hanno raccolto tutta una serie di giovani per dissodare le identità ormai, in qualche modo, segnate e definite in maniera apparentemente immutabile con una progettualità assolutamente nuova che ridava aperture come succedeva con la memoria di Mileto, con il podamo da Mileto, con l'apertura nell'ortogonalità della struttura urbana di lasciar presagire la possibilità di moltiplicarsi, di aprirsi ad libitum, a piacere, attraverso il riconoscimento fondativo di elementi prefissati, preordinati. Tutto questo permetteva la libertà, quello che io ho cercato di infondere con il laboratorio di Cerreto Sanità, oppure in maniera diversa con la dimensione della microchirurgia architettonica urbanistica nei progetti di intervento per il laboratorio di Cassino, o addirittura con l'idea della dispersione, della diluizione progettuale con i laboratori di Gallipoli, volta per volta coinvolgendo personalità diverse dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista generazionale. L'unica cosa di cui ancora mi rammarico è che quando pochi anni fa, sei anni fa, ho impostato il laboratorio di Gallipoli, ho detto basta con i vecchi soloni dell'architettura a cui ho sempre fatto riferimento, cerchiamo di fare riferimento a pedine, diciamo, ad architetti più giovani. Mi sono accorto poi nel coinvolgimento dal gruppo ABDR, Filippo Raimondo, Michele Becu, piuttosto che Renato Nizi, Alberto Cecchetto, il gruppo Femia di Genova, i 5 più 1A, eccetera, che in realtà erano tutte personalità già di per sé generazionalmente appena un passo dalla mia. Quindi, anche lì forse ho sbagliato nella scelta, diciamo, generazionale, non ho sbagliato, sono contento e la confermerei anche oggi. però, diciamo, nel mio pensarmi sempre con lo sguardo rivolto all'indietro invece che pensare che poi tutti cresciamo e tutti andiamo avanti. Siamo là come generazione, insomma, un po'... A me mi sembrate tutti i ragazzi, per questo mi sono permesso di finanziarli. Poi invece vedo che ognuno di voi accumula le proprie fatiche, le proprie esperienze, le proprie delusioni, anche quando tu prima mi parlavi delle tue peregrinazioni accademiche mi spaventa cioè perché insomma il fatto che tu abbia dovuto muoverti tra Ferrara ed altre situazioni veramente la dice lunga sul senso come si dice di disfacimento ormai anche di questa dimensione dell'insegnamento accademico. Va bene. Va bene. Abbiamo Giorgio, vuoi fare una domanda? Giorgio? Ma intanto ringrazio Francesco insomma una domanda ingenua se mi è consentita nel senso che da non architetto me la faccio così me la concedo diciamo cioè è molto interessante diciamo e ovviamente quello che leggiamo insomma quando studiamo la storia dell'architettura insomma i grandi maestri eccetera immaginare questi luoghi delle periferie note appunto Corviale lo Zen eccetera come dei monumenti dei grandi progetti però dall'altra parte io mi chiedo poi la popolazione che abita in questi luoghi è marchiata da una sorta di stigma per cui chi vive allo Zen chi vive a Corviale o chi vive in questi luoghi in qualche modo è un cittadino non di serie B ma di serie Z allora io mi chiedo come è possibile che chi vive in un monumento alla fine come dire invece di freggiarsi di poter abitare in questo luogo così pensato così disegnato poi diventa invece l'abitante come dire questa è una domanda e la seconda che è legata un po' a questo è siccome spesso si parla di fallimenti anche di queste utopie di queste città ideali allora mi chiedo cioè qual era l'idea della città o dell'abitare del razionalismo modernista cioè se queste idee diciamo rimangono a tuo avviso ancora valide e semplicemente si è sbagliato a farle abitare appunto da popolazioni solo problematiche che non avevano e quindi non diventano città diventano ghietti automaticamente oppure se appunto sono mancati solo i servizi o se c'era forse un'idea di città e di abitare perché poi mi viene anche da pensare che la città ideale come è disegnata è senza abitanti è una città vuota allora non vorrei che poi l'utopia ci portasse anche a immaginare no un abitare senza gli abitanti scusa cioè non è provocatorio è un tentativo partendo da considerazioni semplici sì allora per quanto riguarda il primo dato che tu hai sottolineato come siano luoghi ma l'abbiamo già chiarito ghettizzati in fondo no pensa è chiaro che nessuno vorrebbe abitare nel quartiere zen rispetto alla cattiva letteratura alla cattiva filmografia che si è accumulata su questi luoghi di degrado che però per problemi politici sono stati mantenuti in questa condizione di degrado e di disagio perché se si fosse evitato come già facevo riferimento prima a ghettizzare a deportare soltanto un certo tipo di popolazione classi più disagiate classi più problematiche forse non si sarebbe stato questo fenomeno devo anche dire però che rispetto a questo io mi ricordo che per molto tempo ho portato amici miei stranieri a vedere Corviale e ho trovato sempre grande apprezzamento al di là dei luoghi anche lì dicevo prima la strada Corridoio come luogo dello spazio però negli appartamenti c'era una grande soddisfazione e gratificazione da parte degli abitanti che in qualche modo avevano contribuito a ridisegnare il proprio diciamo la propria dimensione domestica la propria interiorità soprattutto per esempio in un'altra esperienza che non abbiamo ricordato prima tra i grandi interventi degli anni 70 ho messo di ricordare il grande intervento del quartiere Matteotti a Terni di Giancarlo De Carlo forse il più realizzato dal punto di vista di quella che veniva chiamata allora l'advocancy planning la pianificazione del basso in cui De Carlo faceva una marea di incontri con la popolazione che sarebbe andata con le persone che sarebbero andate ad abitare nel suo modello sperimentale che ricordo è la contraposizione tra una situazione di piastra diffusa un po' come l'unità d'abitazione bassa di Alberto Libera non con questa diciamo dimensione da mediterraneo arabbeggiante di Alberto Libera che si contrappone appunto alle torri di Saveri Muratori o all'edificio a volano del quartiere Tuscolano o alla casa ballatoio dello stesso Libera ma con la stessa contrapposizione tra elemento lamellare verticale esile e di grande poesia rispetto all'integrazione diciamo anche attraverso la condivisione del verde eccetera del villaggio Matteotti di Terri però c'era grande soddisfazione diciamo non solo per chi abitava Terri ma anche in quelli di Corriale per cui diciamo non è così scontato che fossero tutti luoghi di degrado cioè c'è stata certo come si dice una situazione sempre più difficile sempre più problematica proprio perché non c'è stata questa costante attuazione e costante attenuazione delle problematiche del disagio questo da una parte dall'altra il modello per esempio quando tu dici sono fatte delle utopie certo anche Fiorentino quando ha immaginato la stecca lunga un chilometro di Corriale ha pensato a un modello insediativo diciamo che lui aveva desunto dalla storia in questo caso si trattava del modello del narco film che era stata un'esperienza dei Moisei Ginzburg uno dei grandi autori delle avanguardie sovietiche russe che proprio e dal punto di vista strutturale e dal punto di vista dei materiali e dal punto di vista insediativo era un modello di assoluta novità e per i costi e per il tipo di realizzazione e per il tipo di vita di esistenza che presupponeva ma quel modello del narco film che peraltro recentemente è stato restaurato e restituito nella sua originaria bellezza veramente di grande poesia ecco quando Fiorentino ha pensato alla riproposizione diciamo in scala sovraeccitata dimensionalmente del narco film aveva in mente che non si trattava di un luogo privilegiato come lo è stato il narco film per alcuni dirigenti del partito ma che avrebbe dovuto essere il luogo deputato per generazioni diversificate quindi diciamo anche lì si tratta di capire verso quale orizzonte ci si possa indirizzare per rendere plausibile e sostenibile una scelta progettuale purtroppo è stato fatto tutto in maniera tranchante tagliando con l'accetta per cui si è deciso di deportare le classi come si faceva con i borghetti sotto il fascismo che venivano deportate semplicemente le classi più problematiche insomma e questo ha reso tutto più complicato e tutto più difficile e tutto forse più ineffettuale sì ti leggo un commento straordinario questo passaggio fatto da Moschini sulla capacità di un buon disegno urbano di riuscire nel tempo a filtrare le forze dirompenti al contorno magari anche non previsti o prevedibili sono contento di questo conferma io parlavo di podomo di biletto e di questa possibilità attraverso la fermezza di un disegno consolidato di lasciare presagire possibili avventure possibili aperture possibili dimensioni illimitate Giorgio vuoi fare un'altra domanda? sì mi interessava solo a sapere ma sono stati citati proprio adesso e anche prima c'erano dei riferimenti ovviamente mi pare alla Germania lausse però ecco per esempio è stata una storia quasi tutta italiana quella diciamo che ha ricostruito Francesco volevo sapere ovviamente il riferimento alle corbusier c'è una certa idea anche di città di periferia del razionalismo che ovviamente le corbusier è un po' considerato del pecco appunto che relazioni con il territorio italiano tieni presente tieni presente Giorgio che le corbusier quando pensa al tetto giardino tra i cinque punti fondamentali su cui siamo stati in qualche modo condizionati come generazione per quanto riguarda la salubrità del vivere nell'architettura moderna ecco in realtà se pensi all'esperienza del tetto giardino un conto è l'esperienza degli desogè a réaction poétique come diceva le corbusier degli oggetti dei macro oggetti anche qui disciampianamente enfatizzati come oggetti inquietanti avrebbe detto Rosenberg sul tetto dell'unità d'abitazione della fine degli anni 40 di Marsiglia che poi sono stati ripresi riproposti nelle diverse declinazioni perché ricordiamo che il frammento dell'utopia urbana dell'unità d'abitazione di Marsiglia poi viene realizzato in declinazioni non so alla periferia di Berlino a Firmini a Reselenant dalle corbusier in 4-5 diciamo situazioni molto diversificate tra loro ma l'edizio princeps è quella del 47-48 per appunto per Marsiglia ma a Marsiglia le corbusier fa in parallelo quello che fa per l'attico besteghi per dei signori collezionisti miliardari nel senso quando permette al signor besteghi di affacciarsi e attraverso questi oggetti a reazione poetica sul proprio tetto giardino guardare Parigi con una in chiave diversa rispetto è la stessa possibilità che dà a chi vive nel frammento di utopia urbana come ho detto prima a proposito dell'unità di Marsiglia e si confronta con la solarità e con gli orizzonti lontani come si sarebbero confrontati se fosse stato realizzato il piano bus per Algeri sempre lo corbusieriano ecco quindi ma è importante anche e non trascurabile come queste cose vengono veniamo aiutati a leggere pensate a a tutte le OEF viennesi voi vi ricordate sempre per far riferimento a un personaggio straordinario come Manfredo Tafuri quando per primo pubblicò con Vienna Rossa l'esperienza dei quartieri viennesi durante la gestione social social democratica ecco l'esperienza come quella dell'edificio in cui si svolge un film bellissimo di Liliana Cavani il Karl Marx il portiere di notte il titolo del film ecco come in fondo questa grande OEF viennese forse nessuno ci aveva mai abituato a vederla con gli occhi della poesia con gli occhi della straordinaria sua possibilità anche dal punto di vista formale e funzionale di essere restituita a una diversa fruizione e anche condivisione pensate a un edificio noi abbiamo sempre parlato dei palazzinari romani dei palazzoni romani pensate a un edificio a un intensivo come diremmo della periferia come l'edificio Federici di via 21 Aprile come viene in qualche modo trasfigurato e reso trasfognato dalla percorrenza dalla verticalizzazione dall'eccesso di velocità che vi imprimono alcune immagini del film una giornata particolare quella con Marcello Mastroianni e Sofia Loren in occasione dell'arrivo di Hitler nel 33 alla stazione Ostiense di Roma ecco pensate alla bellezza trasformativa di questa lettura poetica ma non perché sia stato l'onorevole Angelina i film della filmografia neorealista a rendere più accattivanti e a renderci la pillola più dorata dell'abitare periferico ma perché siamo stati aiutati anche attraverso la letteratura attraverso la poesia attraverso la filmografia a capire il valore il senso di una progettualità che noi ci siamo forse anche per anchilosamento mentale nostro disabituati a voler tenere in allenamento come esercizio continuo di critica e di sollecitazione alla messa in funzione delle nostre funzioni più vitali penso alle inquietudini che negli interni riesce a sollecitare un personaggio che fa solo delle riflessioni teoriche attraverso la pittura come Arduino Cantafora ecco uno potrebbe dire ma bonjour tristesse che fra l'altro è il nome anche dell'edificio popolare a Kreuzberg nei luoghi più degradati di Berlino di Alvaro Sisa ecco però dicevo bonjour tristesse nel senso che i luoghi un po' malati un po' rattrappiti dell'immaginario di Cantafora sono i luoghi che in qualche modo sollecitano a un vivere diverso all'interno di una spazialità che sia pure attraverso l'esibizione di una propria condizione di non perfetta tenuta mentale di salubrità dal punto di vista spaziale temporale eccetera comunque conserva la capacità di trasmettere un senso di viva inquietudine per mantenere sana l'intelligenza e vitale la capacità critica non ti sentiamo preferenziale ma c'è Carmelo Baglivo quindi a proposito di tetto giardino con Carmelo partecipando all'ultimo bando diciamo all'ultimo concorso per la riqualificazione di Corviale noi proponiamo un'ipotesi di Corviale Capitolino di museo sul tetto con il Gala da Morente o la Venere Capitolina ecco come soluzione come è possibile diciamo così bypass ecco tra la città e il Campidoglio chilometro zero diciamo e quel quartiere di periferia ovviamente non abbiamo vinto però fu una riflessione interessante quella con Carmelo insomma in quell'occasione ecco secondo secondo te come si può aspetta che mi sa che Francesco ce lo siamo riperso non so Carmelo se intanto eccolo è tornato ecco volevo sapere appunto come si possono ricollegare diciamo alla città di luoghi comunque non so non so se ti sente lo vedo intanto magari Carmelo puoi dire tu qualcosa se ti va poi ci senti Francesco adesso si sono tornato a sentirvi hai sentito Giorgio dobbiamo ripetersi pronto si ci senti si adesso stavamo stavamo raccontando questa ipotesi che abbiamo presentato con Carmelo per il bando di riqualificazione di Corviale che prevedeva un museo una succursale dei musei capitolini proprio sul tetto a proposito dei tetti giardino insomma avevamo immaginato di portare lì chi so il Gala da Morente o la Venere capitolina anche per facilitare la connessione appunto concordiale che soffre un po' di isolamento insomma rispetto al resto della città e anche quella è un'operazione un po' duchampiana insomma spostare spostare questo era un progetto di che anni questo e l'abbiamo presentato all'ultimo anno cinque anni fa cinque anni fa credo era all'interno di quel progetto che poi come esito ha avuto la guendalina Salimè come quello è per il piano commerciale va bene allora dunque mi sono segnato alcuni appunti mentre di quello che hai detto allora uno è questo il rapporto con il cinema che ti fa in qualche modo pensare anche appunto di come viene vista poeticamente come questi spazi vengono visti hanno una forza poetica una forza estetica come diciamo vengono quasi considerate delle tracce o delle rovine storiche no per cui che ci unì che per esempio fa valorizzare le aree dismesse ci fa valorizzare le parti incompiute di città no e se tutto si cosparge con questo c'è questo velo che copre tutto e ci fa vedere ci fa vedere come in una sorta di nebbia ora Lucchino Visconti in Ferrara questa nebbia così che ci fa vedere però secondo te non è un po' un atteggiamento forse un po' borghese cioè un atteggiamento che poi va a finire dove cioè è un po' anche un paradosso cioè nel senso che poi sono aree interessanti che tu poi le vuoi trasformare le vuoi prendere le vuoi farle diventare qualcosa ma anche lì poi ti sfugge perché nel momento che tu ci lavori le trasformi le diventano diventa un oggetto allora forse magari questa logica deve essere proprio dedicata all'abbandono di alcune parti come pezzi di memoria come rovine non lo so io ho questo vorrei chiederti cosa pensi di questa sì io non sarei così definitivo e definitorio nel pensare che sia una sorta di mielina messa sopra per cui basta noi film di Antonioni a rendere Ferrara o il film Il giardino dei finzi continui che hai citato tu eccetera ma penso che comunque contribuiscano a disvelarci alcune cose non sono la soluzione sono come si è un modo per rendere per lenire anche la poca voglia che abbiamo magari di impegnarci di più nel rileggere alcuni fatti diciamo senza pensare alla bellezza di Stalker no? o di Blade Runner la perversione del piacere della decomposizione e del disfacimento però diciamo se aiutano a vivere forse ci rendono anche meno sofferente la nostra coesistenza la nostra convivenza all'interno di certi luoghi no? cioè non devono essere per forza dei palliativi o dei placebo ma devono essere elementi di chiarimento di accompagnamento a una miglior comprensione certo poi restano le cose nella loro complessità nella loro capacità di rimanere disarticolate disfatte sfrante però insomma forse basta non aspirare alla totalità basta non aspettarsi nulla di totalizzante e di ultimativo insomma se non voglio e poi diciamo ci stiamo per liberare la fine stiamo finendo i minuti per cui no no mi ha fatto molto piacere comunque no io avevo le ultime considerazioni no? ritornando appunto alla periferia e nello specifico Roma mi viene in mente cioè la domanda che ci poniamo noi progettisti è che fare cioè che fare per cioè come intervenire il che fare significa come intervenire in queste aree no? quali sono i nostri i nostri obiettivi cioè chiaramente ti vengono in mente citazioni Argan che dice Roma non va progettata va ripensata c'è questa visione bisogna avere una visione di Roma per ecco appunto questa visione di Roma che poi è un punto centrale nevralgico anche di noi progettisti di noi progettisti romani che abbiamo questa città come riferimento abbiamo le rappresentazioni di questa città come riferimento i piranesi Fosiglion dice dai piranesi vedo tutta Roma cioè lui diceva che non si fermava lì il disegno di piranesi ma continuava continuava idealmente allora dico questa Roma che è così impegnativa cioè noi cosa vedo che certe volte ci giriamo intorno non lo so la città policentrica a definizioni diciamo che lasciano il tempo che trovano la città policentrica cioè forse tu mi consideri forse troppo radicale alcune volte che sono transcianto medicino però non lo so forse Roma un po' un po' ne ha bisogno di questa radicalità no? oppure perché anche questa è oppure una definizione ben precisa non lo so appunto la città policentrica se ne parla tanto di questa appunto parlando di periferie il centro si sta trasformando sta diventando ormai un bed and breath un breath unico per cui questo è il vero dramma il centro sta in qualche modo si sta riducendo in una grande mangiatoia anzi adesso ancora di più perché dato che tutti i tavolini sono fuori non riconosci le piazze ormai ritorni a progettare i vuoti e i piedi sui tavolini penso tutto questa cosa di tornare a progettare il vuoto per permettere alla dimensione una volta dovevamo fare i conti con la razza padrona vi ricordate da cefis a raul gardini eccetera adesso con la razza bottegaia e affittacamere mi è tolto il moralismo mio su cui sarei abbordato sicuramente però insomma teniamo presente per quanto riguarda se mi pare di aver colto in luce il senso del tuo discorso è che dobbiamo uscire sia dall'utopia diciamo visionaria che rasenta quasi l'incontinenza pensa a un grande utopista come Luigi Pellegrin diciamo forse il più come si dice il più muscolare degli eredi di un poeta straordinario come Maurizio Sacripanti ti ricordo Maurizio Sacripanti aveva previsto non nella periferia ma via Giulia via Giulia della scienza ecco e lui veramente parlava di utopia urbana ma con la concretezza del lavorare diciamo all'interno anche di uno spazio misurato e commisurato dal proprio progetto sia che riguardasse il padiglione per l'expo di Osaka che riguardasse Forlì i musei di Forlì o il più recente fatto proprio prima di morire museo per Ico Parisi ecco al nord ecco ma dobbiamo uscire dalla visionarietà che rasenta l'incontinenza per esempio di un altro straordinario poeta dell'architettura come Luigi Pellegri che però apposta parlo di incontinenza perché aveva una visionarietà talmente straordinaria talmente esuberante talmente enfatizzata che rasentava appunto la incontrollabilità dall'altra abbiamo lo storicismo dei progetti come alcuni gruppi progettuali soprattutto quelli sollecitati dal Dipartimento dell'Università della Sapienza di Roma penso al quartiere Gregna in cui si erano messi insieme portoghesi con altri progettisti o piuttosto che lo stesso progetto di portoghesi per il quartiere Rinascimento mi pare nella zona di talenti ecco dobbiamo uscire da questa logica totalizzante univoca e pensare a una dimensione più diciamo di dissolvenze fatte di puntualità di frecce poetiche che arrivano in certi punti penso a alcune chiese progettate realizzate da Antonio Monestiroli piuttosto che da Vittorio De Feo proprio prima di morire la chiesa pertorvergata ecco alcuni elementi che diventano delle vere e proprie frecce poetiche all'interno di comparti periferici che probabilmente si faranno carico penso anche a una chiesa realizzata da Alessandro Anselmi in un posto che si chiama peraltro Malafede mi pare di ricordare ecco io sono convinto che diciamo la carenza qualitativa diciamo dal punto di vista del disegno urbano in qualche modo possa essere smussata diminuita e in qualche modo ribaltata non come placebo come potresti rimproverarmi tu Carmelo ma come elemento di riscatto e di ripartenza ecco mi illudo che queste piccole frecce poetiche diciamo evitando diciamo l'incontinenza o lo storicismo nostalgico possano contribuire a dare un senso a voi architetti che progettate a continuare nonostante tutto a illudervi che si possa continuare a progettare possiamo chiudere credo ecco Giorgio se vuoi siamo alla fine l'augurio che anche questo nostro museo delle periferie quando sorgerà se mai sorgerà sarà il primo museo della capitale oltre il grande raccordo annullare sarà una piccola freccia poetica ecco diciamo in un territorio come quello di Torbella Monaca insomma e quindi ci auguriamo io chiuderei bene con questa immagine delle frecce poetiche mi sembra mi sembrano anche più interessanti delle frecce tricolori che domani dopo domani si tartureranno ecco però bisogna stare molto attenti nella definizione di queste frecce poetiche perché ad esempio tu hai citato Torbella Monaca allora io ritengo che per esempio la chiesa di Spadolini e Torbella Monaca non sia proprio una freccia poetica quella a cui alludo io anche se è stata stemperata nella suo assolutismo faraonico dalle diciamo dagli elementi d'arredo di Mario Ceroli io penso che invece il teatro attiguo all'aperto rispetto al teatro molto utilizzato dalla gente di Torbella Monaca siano davvero nella loro assetticità nella loro schematicità se non scheletricità larvale delle straordinarie presenze poetiche non griffate ma di grande possibilità di apertura e di riscatto sono d'accordo grazie 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 mille a Francesco Moschini per questa lezione anche a Carmelo insomma chiude chiude lui l'incontro io volevo solo ricordare che le riflessioni ripartiranno dopo l'estate quindi insomma questa è stata l'ultima ma insomma abbiamo chiuso in bellezza quindi io saluto tutti ringrazio di nuovo Francesco e Carmelo e lascio a lui le parole conclusive insomma ci rivediamo ricordiamo i libricini che stanno uscendo un po' di pubblicità eccoli qua stanno uscendo questi libricini approfitto allora saluto tutti ringrazio ringrazio Francesco è stata veramente una ti abbraccerei ma non si può fare grazie allora e ci vediamo grazie a voi grazie a voi a presto buona domenica di nuovo grazie a voi